La squadra mobile di Agrigendo è seguito all'alba sei misure cautelari, tre in carcere ed altrettante domiciliari, firmate dal GIP e dal Tribunale di Palermo Ricciardi su richiesta della DDA con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso e intestazione vittizia dei beni. Tutti gli arrestati sono dedicata, l'operazione è stata denominata in codice Oster che significa imposizione o anche il tentativo di estromettere il titolare di un'azienda per appropriarsene. Le indagini sono state avviate nel 2009 e sono durate oltre due anni. Gli arrestati sono Angelo Chipin di 58 anni, Giuseppe Galandi 54, Pasquale Cardella di 61 anni. Questi tre sono stati portati in carcere. Ai domiciliari invece sono stati posti Giuseppe Cardella 31 anni, figlio di Pasquale, Claudio Cardella 37 anni, nipote sempre di Pasquale, Gianluca Vedda 37 anni. Questi ultimi tre sono stati posti ai domiciliari perché viene contestata l'intestazione fittizia dei beni per conto dei primi tre. Sequestrate anche due aziende di Movimento Terra e di commercializzazione di calcestruzzo. Secondo l'accusa gli indagati imponevano i loro mezzi e il materiale alle imprese locali a chiunque si fosse aggiudicato dalla gara d'appalto. Mezzi e materiale che spesso venivano forniti in quantità superiore rispetto a quello che effettivamente serviva. Grande impulso a quest'operazione di polizia hanno certamente dato gli imprenditori. La loro collaborazione è stata davvero importante. Il pizzo che veniva chiesto ammontava il 2% dell'appalto che gli imprenditori riuscivano ad ottenere. Sì, questo per quanto riguarda un segmento dell'attività investigativa. C'è l'attività estorsiva finalizzata a riscuotere una percentuale sul valore complessivo dell'appalto. L'altro aspetto dell'attività estorsiva che invece è stata accertata nel corso delle indagini era quello invece di imporre con metodologie mafiose il noleggio dei mezzi e l'utilizzo di materiali da parte di altre imprese. Quindi l'imprenditore si trovava costretto a noleggiare mezzi che non gli servivano o acquistare materiali di cui non aveva bisogno. Lei ha detto in conferenza stampa che 4-5 imprenditori hanno collaborato con voi per portare a termine questa operazione. Secondo lei è anche un problema che cominciano ad avere meno paura oppure la crisi che li ha messi in ginocchio e quindi li costringe quasi a parlare? Un problema di fiducia e di risposte, soltanto questo. Fiducia nelle istituzioni e risposte pronte da parte delle istituzioni della magistratura. Come è avvenuto? È partito subito un imprenditore verso di voi e poi gli altri hanno seguito a ruota? Ho detto nella conferenza stampa che il commissario di Licata da questo punto di vista ha fatto un'attività molto importante per convincere questi imprenditori la bontà della scelta di avere come unico e diretto interlocutore lo Stato.